Nel vasto universo delle serie animate per bambini, poche hanno conquistato i cuori dei più piccoli come Peppa Pig. Questo cartone animato trasporta i giovani spettatori in un mondo incantato, popolato da Peppa, una piccola maialina antropomorfa, e la sua vivace famiglia, insieme a un gruppo di amici animali altrettanto adorabili. La peculiarità di questa serie risiede nella semplicità delle vicende, in un ambiente dove la normalità si fonde con una dose di fantasia. L'estrema semplicità del disegno, ideata per avvicinare i bambini, è stata abilmente coniugata con un equilibrio perfetto tra umanità e caratteristiche animali. I personaggi, pur vestendo abiti e conducendo una vita simile a quella umana, iniziano le conversazioni con i loro versi caratteristici, come grugniti o belati, mantenendo sempre un legame con la loro natura animale. Le avventure di Peppa, del suo adorabile fratellino George e della loro famiglia, costituita da mamma Pig, papà Pig, nonna e nonno Pig, sono ricche di momenti di gioia e divertimento. Saltare nelle pozzanghere di fango è una passione condivisa che ricorre costantemente, un gesto che simboleggia la semplicità e la spensieratezza dell'infanzia. Una delle peculiarità della serie è la risata collettiva che conclude molte delle avventure, un gesto che trasmette gioia e condivisione tra i personaggi. Tuttavia, il cartone non evita di mostrare anche emozioni come la delusione, rappresentate dalle lacrime dei più piccoli. Il mondo di Peppa Pig è un luogo dove i veicoli percorrono colline ripide senza problemi, dove le case sono abitate da animali antropomorfi e dove l'amicizia è al centro di ogni avventura. I personaggi, maschi e femmine, indossano abiti che riflettono le loro identità di genere, senza mai smorzare la loro autenticità. L'amicizia tra Peppa e la sua migliore amica, Susie Pecora, è un tema ricorrente, caratterizzato da piccoli conflitti che si risolvono sempre in pace, insegnando ai giovani spettatori l'importanza della comprensione e della risoluzione dei problemi. Peppa Pig incarna una miscela affascinante di normalità e fantasia, regalando ai bambini un universo in cui divertimento, empatia e amicizia sono al centro di ogni avventura, confermando il suo posto speciale nel cuore dei più piccoli e dei loro genitori.